Reggina Postolorum, Reggina Martirum, Reggina Confessorum, Reggina Virginum, Reggina Sintorum Omnium, Reggina Sinalabium Amorale Concepola, Reggina... Reggatemi la palla, reggatemela! Reggina Postoks popoli e chiamata! Br sheesh of work! Fulgidissima d'amore e di pietà. Onze, danze, prince. E' zitto. E' stato di fiume. Lo è di Nino, quello è il più bel culo da catarro. I suoi familiari di attenzione vigile e costante, presente e amorosa in ogni circostanza, curando da vicino e risolvendo le piccole e inevitabili crisi della famiglia. Il suo sposo piange, ma una certezza lo sorregge. Egli sa che se riuscirà a seguire il suo fulgido esempio di vita, prima o poi la raggiungerà nella gloria del Signore. Ma vabbè, non è che c'è tutta questa urgenza. Ma Margherita, la brocca non è morta. Come non è morta? Morta. Ella non abbandonerà mai la casa che già fu sua. Non ci sarà ora della giornata, stanza della casa medesima, dove la sua anima non sarà presente con il suo dolce aleggiare di benefico genio domestico. Guardiana, oserei dire, di quelli che l'ha lasciato nel dolore e nella disperazione. Io sempre a casa. Le vie del Signore sono infinite. Riposa in pace, Margherita, in attesa di risorgere lì. Grazie a tutti. Allora, Cavalleri, è stato un piacere. Ripostate bene. Grazie a tutti.